Goditi il resto del sabato Steve, perché mi hai portato così lontano? Visto che siamo due ricchi eccentrici, ora scenderemo a quasi 4000 metri e sfoglieremo James Cameron mentre riprende il Titanic Eccolo lì, ci sarà da ridere! Brian, ma sei diventato un mostro! Ehi, questa cosa offende la comunità dei mostri! Sì, alcuni di noi sono buoni! Sì, come no? Tu non sei stato accusato di abusi sessuali su sedicenni? L'accusatore di Elmo ha ritrattato e ha dichiarato che la relazione era consensuale! Sì, ma non c'era anche un altro caso che poi è stato archiviato perché è caduto in prescrizione? Elmo non commenta! Biscotto! Lui vuole un biscotto! Oh, adoro i Muppets! Bello, ci siamo quasi! Ecco fatto, siamo arrivati in salotto! Lois, metti una di quelle sue pillole, arriva alla macchina in un po' di carne Io lo sorrego mentre Confuso fissa la scodella dell'acqua senza vederla! Dai, bello, è davanti a te! Dai, forza! È proprio lì! È acqua! E a te piace! Ecco, bravo! Hai visto che ce la fai? Brupert, musica! Oh no! Lui conosce il Gymkhata! Non possiamo difenderci! Presto, mettiamoci tutti in salvo sotto quelle parallele asimmetriche! Pessima idea, amico! Sewee! Oh mio Dio, grazie! Ecco qui, Peter! Offre la casa! Allora, che mi dici? Peter, dove hai preso quella mucca? Che domanda sciocca, Lois! L'ho comprata così avremo latte fresco tutti i giorni! Oh, 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 accicaccio! Questa redulla sì che è forte! Sicuramente ne saranno felici! Wow, forza paramedici! Correte! Peter, quell'intruglio ti ucciderà! Tutto quello che non mi uccide mi rende più forte! Visto, Brian? Io mi sento belone! Peter! Peter, sei vivo? Sei vivo, meno male! Bene, allora io... Allora io... non ti mangerò! Stavo per mangiarti! Oh mio Dio! Peter! Non hai una bella cera? Ma che stai dicendo? Mi sento belone! Potrei continuare ancora per altri vent'anni! Sì, sì! E voglio il cofanetto di Charles in Charge! E voglio il giochino dei magneti! E voglio il gioco dell'uno perché mi sono perso la carta del salto a un giro! E voglio un animaletto metà cincilla e metà visone perché lo voglio bello, morbidoso e magari lo chiamo visilla! E questo è tutto! In mente orientali che Siano legate tutte a me Quest'anno del Natale niente di più! Cos'è questa? Strana come pistola? Sì, lascia non toccarla! Oh, è una lanciarazzi! Meglio se la rimetti a posto! Ma non faccio niente! Questo è il grigio! Sì, è una lanciarazzi! 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 Sì, è una lanciarazzi!